Diplomatasi al liceo classico Terenzio Mamiani di Roma, dove comincia l'attività teatrale, si laurea con lode in scienze politiche alla sapienza, con una tesi sulla prospettiva di genere nell'aiuto allo sviluppo 1. Per trascorrere due anni a Bruxelles in uno stage presso la Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha fatto una proposta piccante riferita ad un coinquilino, ma non l'ha fatta direttamente alla persona interessata. Di cosa ha parlato l'attrice in giardino con i coinquilini e a chi si riferiva con il suo discorso? Beatrice ne ha discusso con Letizia, Mirko e Angelica, facendo riferimento al fatto di volere approfondire un certo rapporto. Ha parlato prima di volere la prova del 9, poi di voler prendere in mano la situazione e, infine, ha fatto un gesto ambiguo con la mano, che ha suscitato le risate di Letizia e Angelica. Eppure molti telespettatori non hanno capito a chi si riferisse.